Una vittoria netta anche se non schiacciante, quella di Pedro Sanchez, eletto nuovo segretario dell'Opsoe alle primarie del Partito Socialista Spagnolo. 13.000 circa i voti ottenuti da Sanchez quando lo scrutinio è oltre il 90%. La grande sconfitta che pure esce a testa alta è Susana Diaz, segretario uscente, che incassa più del 40% delle preferenze. Diaz ha subito messo la sconfitta, si è congratulata con il suo avversario e compagno di partito, partito che Sanchez aveva già guidato tra 2014 e 2016, terzo gradino del podio a grande distanza, aspetta Paci Lopez, votato da circa il 10% dei militanti socialisti.